Daniel! Mi hai spaventato a morte! Gridai colpendolo sulla schiena. Ridendo a crepapelle, mio fratello si tolse lo stupido costume da topo che aveva tanto insistito per portarsi nella casa nuova. Avresti dovuto vedere la tua faccia, perciò sai una cosa, comincerò a chiamarti Fifa Cat. Aha, molto divertente, risposi alzando gli occhi al cielo. Vi ho già accennato al fatto che Daniel è convinto di essere il re degli scherzi. D'un tratto mi venne in mente ciò che mio fratello avrebbe dovuto fare. Papà ti ha chiesto di badare a Killer dove si trova adesso. Non c'è nessun bisogno che lo vada a cercare, ridacchiò Daniel. Non potrebbe mai perdersi. Cosa vuoi dire, indagai. Ho chiuso Killer nello scantinato. Mi rivelò pieno di orgoglio. E poi, mentre tu gironzolavi per il porticato, sono entrato per la porta di servizio e mi sono nascosto sotto al lavandino. Che topaccio orrendo, esclamai disgustata. In quel momento udì uno strano rumore, come un ticchettio provenire dal pavimento di linoleum. Cos'è? Chiesi. La bocca di Daniel si spalancò. Oh no, è un topo vero, urlò. Cut, stai attenta, togliti di lì. Senza pensarci neanche un istante, balzai su una sedia della cucina, mentre Killer entrava trotterellando nella stanza. Daniel le proruppe in una ricciata stridola. Sei caduto due volte nello stesso scherzo, esclamò raggiante. Mi lanciai addosso a mio fratello e cominciai a fargli il solletico. Preparati a morire ridendo, gridai. Basta, aiuto, no! Si inghiazzò. Kate, ti prego, smettila, per favore. Io non posso sopportarlo. Ti arrendi? Chiesi. Daniel a noi. Sì! Balbettò, mezzo ridendo e mezzo boccheggiando. Va bene, concessi generosamente. Adesso puoi alzarti. Grazie, disse. Ehi, che sta facendo Killer laggiù? Non attacca, non cadrò in un altro dei tuoi trucchi, dichiarai. Ma quando abbassai lo sguardo, vidi che il Cocker Spaniel sembrava molto interessato a qualcosa che si trovava all'interno dell'armadietto sotto al lavandino che avevo lasciato aperto. Lo tirò fuori, poi lo annusò. Lo spinse con il muso e ringhia forte. Strano, pensai. Ehi, bello, cos'hai trovato là dentro? Lo chiamai. Il cane non mi padò. Mi chinai per vedere più da vicino. Che cos'è, Cat? Chiese Daniel. Niente di particolare, risposi distrattamente. Solo una vecchia spugna, credo. Sembrava perfettamente normale. Piccola, rotonda e marroncina. Un po' più grande di un uovo. Ma la spugna aveva reso Killer insolitamente eccitato e nervoso. Il cane danzava tutt'attorno a quell'oggetto latrando e ringhiando. Gli presi la spugna per guardarla meglio, ma incredibilmente il mio adorato cagnolino cercò di mordermi. Killer! Grida e sorpresa. Cattivo! Sgattaiolò in un angolo e con un guaito imbarazzato abbandonò mestamente la testa sulle zampe. Sollevai la spugna davanti agli occhi per esaminarla. Ehi, aspetto un attimo. Immediatamente compresi il motivo dello strano comportamento di Killer. Daniel, guarda! Esclamai. Non posso crederci. Che roba è, Cat? Gridò Daniel. Fissavo sconvolta la piccola spugna. Forse i miei occhi mi stanno giocando un brutto scherzo. Murmurai. È completamente assurdo! Avanti, Cat! Insiste Daniel. Di che si tratta? Studiai ancora la spugna. Accidenti! Anzi, mai. I miei occhi non mi stavano affatto ingannando. La spugna rotonda si muoveva nella mia mano piano piano. Avanti e indietro. Avanti e indietro a un ritmo regolare. Come se stesse respirando. Ma le spugne non respirano. Non è così. Beh, questa di sicuro respirava. Potevo persino sentire il suo impercettibile respiro. Daniel, credo che questa non sia semplicemente una spugna. Balbettai. Credo che sia viva. La gettai di nuovo nell'armadietto sotto al lavandino. Lo ammetto, ero un po' spaventata. Mio fratello si mise le mani sui fianchi. È uno scherzo che non sta in piedi. Si, ridacchiò. Ma, Daniel, cominciai. Non puoi prendermi in giro con una cosa simile, Kat. È solo una vecchia spugna. Insiste a diridermi. Una vecchia lurida spugna che probabilmente si trova là dentro da un centinaio di anni. E va bene, non credermi. Esclamai. Quando diventerò famosa per aver scoperto questa cosa, non dirò a nessuno che sei mio fratello. Passò la mamma portando una bracciata di cappotti. Ero sicura che lei mi avrebbe creduto. Mamma, vieni a vedere. Gridai. La spugna è viva. Va bene, cara. Mormorò per tutta risposta. Sono rimaste solo poche cose da portare dentro ancora. Ma dove ho messo la scatola dell'argenteria? Mia madre si comportava come se non mi avesse nemmeno sentito. Mamma, ricomincia Emma questa volta a voce più bassa. La spugna sotto il lavandino. Respira. Mi ignorò affrettandosi verso la porta zanzariera diretta fuori in cortile. Nessuno si curava della mia sconvolgente scoperta. Eccetto Killer. Lui sembrava parecchio interessato. Forse anche troppo interessato. Killer allungò il collo e infilò il muso nell'armadietto. Poi rimasi a lungo a fissare la spugna. Con un ringhiovasso e profondo in gola. Perché stava ringhiando di nuovo? Killer toccava la spugna con il suo muso umido e la spingeva qua e là, usandola tutto spiano. Per un momento sollevò la testa a guardarmi con un'espressione perplessa nei suoi occhi canini. Killer aprì le fauci e afferrò la spugna con i denti. Ehi, non è roba da mangiare! Gridai prendendo il cane per il collare e tirandolo via dal lavandino. Potrebbe anche essere una scoperta molto importante. Mi voltai verso mio fratello. Hai visto, Daniel? Killer sa che è viva, insistetti. Sul serio, non è uno scherzo. Vieni a guardare da vicino. Ti assicuro che vedrai la spugna respirare. Daniel ridacchiò come se non mi credesse. Tuttavia infilò la testa nell'armadietto. Ehi, accidenti, potresti aver ragione, ammise. Si sollevò a guardarmi in faccia. Penso che sia viva. E penso anche che sia mia. Detto questo, si tuffò sotto il lavandino per afferrare la spugna. Non pensarci neanche! Protestai afferrando un lembo della sua maglietta e trascinandolo via. L'ho vista io per prima e perciò la spugna appartiene a me. Mi diede una spinta e si chinò di nuovo. E di chi la prende? Feci per dargli un'altra strattonata. Ma prima che potessi toccarlo, Daniel lanciò un grido di dolore da far gelare il sangue. Ma prima che potessi toccarlo, E di chi la prende? Ma prima che potessi toccarlo,